E no, non sono sparito, sono ancora vivo ragazzi. Bene, bentornati in questo nuovo video. Sono stato un po' assente per una serie di motivi. Uno, un giorno di malattia ragazzi, perché non sono stato bene qualche giorno fa, quindi venerdì scorso non ho potuto registrare il video, mentre il video di ieri l'ho voluto appositamente rimandare ad oggi, perché è il 31 di dicembre e volevo fare un video per fare un sunto di quello che è successo nell'anno 2019. Sui mercati delle criptovalute, in particolare analizzeremo solo ed esclusivamente Bitcoin per cercare di analizzare un grafico di più ampio spettro, quindi di più ampie vedute e andare a capire questo 2019 che cosa ci ha regalato, quali sono i numeri, quali sono i movimenti importanti da un punto di vista macro, quindi zoomato dal grande angolare, parliamo così, e andiamo a vedere quello che ha fatto Bitcoin e cosa possiamo desumere da questi atteggiamenti, cioè quale è il significato dei movimenti del mercato Bitcoin nel 2019. E sì, perché ci serve anche questo, ci serve anche analizzare il mercato da un punto di vista estremamente lontano per capire quello che potrà avvenire nel 2020. Infatti ragazzi, questo è un duplice video perché domani, l'1 di gennaio, analizzeremo anche quello che potrà accadere nel primi giorni, quindi nelle prime settimane del nuovo anno, della nuova decada. Ragazzi, entriamo in una nuova decada 2020, gennaio 2020. Cosa può succedere? Ci sono delle peculiarità probabilistiche che sono simpatiche e interessanti da andare a vedere. Ok, eccoci sul grafico ragazzi. Allora, un grafico di Bitstamp, che è il grafico che uso solitamente quando vado a fare un'analisi di lungo periodo. Questo è un grafico di natura settimanale e qui sotto vedete il MACD, che è un indicatore semplicemente di direzionalità del mercato. Ci può indicare la situazione attuale anche qual è. Allora, intanto andiamo a guardare il movimento del MACD nell'ultimo anno. Vediamo se riusciamo a ingrandirlo ragazzi un po' di più. Ok, allora questo è il movimento del MACD che rispecchia ragazzi in maniera estremamente chiara il movimento di trend del mercato di Bitcoin nell'anno 2019. In particolar modo dobbiamo tendenzialmente guardare il mercato da questa giornata a questa giornata esattamente, che è l'ultimo dell'anno per il mercato di Bitcoin oggi. Allora, quello che possiamo vedere in questo caso è un andamento palestemente a montagna, quindi il mercato di Bitcoin ha fatto questo super up per metà del mese dell'anno e poi una fase ribassista quasi identica ragazzi se guardiamo l'indicatore in termini di forza, quindi in termini di intensità sembrerebbe una fase ribassista sostanzialmente identica. Identica, quasi identica ragazzi, anche nella tempistica. Quindi insomma qui siamo a una parte ribassista che inizia in sostanza ad agosto piuttosto che iniziare a fine giugno, quindi un mese di distanza. Ma perché il MACD è un indicatore come tutti gli indicatori, ragazzi, ritarda. Se andiamo a guardare i prezzi, vediamo che in sostanza il massimo di Bitcoin è stato fatto proprio dopo sei mesi, quindi a metà anno ragazzi. Allora, intanto, prima peculiarità, lo dico in maniera diciamo abbastanza chiara, un atteggiamento del genere dipinto così lineare è estremamente difficile da trovare nei mercati perché se fosse così facile ragazzi avere questo tipo di atteggiamento i mercati sarebbero da tradare come un bancomat perché noi bastava semplicemente vedere questo taglio del MACD ribassista, andare short e aspettare e ancora saremmo short sul mercato e in grande guadagno. Quindi avremmo chiuso la nostra posizione in hold, non avremmo fatto sostanzialmente niente se non due operazioni all'anno, una qui all'ingresso, vedete, e l'altra qui all'uscita, quindi sono operazioni che in pratica poteva fare chiunque senza diciamo neanche una grande difficoltà, vedete, perché questi sono grafici settimanali quindi non dovete stare sul grafico, non dovete vedere niente, andate a vedere il MACD, il MACD ha tagliato, io vado long, il MACD ha tagliato, io chiudo le operazioni e vado short. Via con i giochi, parte il circo e faccio soldi così. In realtà questa situazione è una situazione estremamente difficile da verificarsi e si verifica quando, quando il mercato ragazzi enfatizza alcune fasi. In questo caso Bitcoin probabilmente ha enfatizzato la fase rialzista e questa fase ribassista a questo punto diciamo una risposta, un po' quello che avevamo avuto anche nell'anno 2017, vedete, con la grande bolla che da qui a qui il MACD ci ha indicato, insomma in maniera esemplare le due fasi, in questo caso di trend, sul grafico settimanale. Però vedete già, ecco, questo è un atteggiamento più comune nei mercati di quello che fa un indicatore di questo tipo, cioè in sostanza qui per esempio, vedete, in tutto l'anno del 2018 fa un taglio verso l'alto e poi però in realtà indica sempre il trend rialzista mentre il mercato scenderà per tutto il tempo. Insomma, quindi questo è diciamo un atteggiamento più comune di questo indicatore, quindi questo anno 2019 è stato in sostanza un anno già di un'eccezione particolare perché il movimento del mercato è stato dipinto in maniera forse un po' quasi programmatica, sembra che sia stato programmato Bitcoin per essere così chiaro, così evidente. Andiamo a vedere invece quello che è il grafico, che poi ci interessa di più, ovviamente lo stesso tipo di discorso anche del Mac lo ritroviamo nelle medie mobile perché esattamente insomma il Mac è composto utilizzando le medie, quindi insomma, vedete, solo le medie sono un po' più distanti in questo caso perché sono settate su periodi differenti. Allora, per quello che riguarda invece l'anno 2019, che cosa ha fatto il mercato, lo riscontriamo qui, vedete, ancora una volta, siamo all'interno di questo spazio, adesso lo mettiamo giù, quindi questo è il nostro anno 2019, andiamo a vedere il segnale. Allora, Bitcoin intanto ci ha indicato una cosa importantissima che va guardata, ragazzi, anche quest'anno per posizionarci in eventualità nell'anno successivo, quindi in questo nuovo 2020. Allora, la prima cosa che va guardata in sostanza è come il mercato, come Bitcoin ha cambiato il trend. Guardiamolo perché è un atteggiamento di un mercato, il mercato potete anche valutarlo come se fosse un'entità e magari agisce o reagisce a determinate cose sempre nello stesso modo, quindi utilizzando gli stessi comportamenti. Nell'ultimo anno Bitcoin non ha sostanzialmente cambiato comportamento rispetto alle sue reazioni classiche. Cosa fa, ragazzi? Fa queste giornate di super app che poi si svolgono tutte nell'arco di mezz'ora, 15-20 minuti, dun 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 dun, e poi o ritorna indietro si stabilizza, ma fa queste famose candelone, insomma, no? Sia alla parte rialzista, sia alla parte ribassista. Affermo restando che la parte rialzista è più impulsiva nel caso di Bitcoin. Magari farò un video a riguardo perché è un atteggiamento estremamente contrapposto a quello dei mercati classici. Ma andiamo a vedere la fase di reazione. Allora, quando il mercato ha invertito il trend, quindi come Bitcoin ha invertito il trend nel 2019, qui, in questo caso, ha fatto un classico breakout di una barra di congestione lunga, lunghissima, ragazzi, veramente lunga, perché era una barra di congestione che noi ci portavamo dietro, in sostanza, dal dicembre del 2018 fino ad aprile del 2019, ragazzi, ok? Quindi dicembre-aprile, pensate un po', ragazzi, quindi abbiamo gennaio-febbraio-marzo e, insomma, un pezzettino di aprile, insomma, quindi sono tre mesi e qualcosina. Allora, tre mesi per riflettere, per assumere, diciamo, posizione, per capire cosa fare, per prendere, diciamo, la forza di fare poi una fase rialzista. Quindi solo con questo tipo di atteggiamento, palesemente una fase di accumulazione, il mercato poi decide questo break. Vi ricordate, magari chi di voi mi segue da un po' di tempo, si ricorda il mio video dove io dicevo, insomma, cambio trend, si va a long, insomma, a 4.400 dollari, quindi siamo entrati palesemente, insomma, io ho fatto anche la gag rivolta alla telecamera apposta, insomma, ragazzi, per indicare questa cosa. Dopodiché il mercato continua il suo trend, perché Bitcoin enfatizza i trend, ragazzi, non ve lo dimenticate. E qui arriviamo all'ultima indicazione che il mercato ci sta dando, in questo 2019, e che dobbiamo tenerne conto nel 2020. E l'ultima indicazione è che la fase di ribasso, come potete vedere, è più difficile della fase di rialzo, vedete? Allora, qui c'è, pum, ingresso rialzista, il mercato praticamente fa così, ok? Nella fase, invece, ribassista, il mercato ha difficoltà, fa settimane, poi ritorna su, scende piano piano, qui non ce la fa, ritorno su, impulso, scendo piano piano, ragiono, e poi si vede. Come vedete, è più difficile, è più, diciamo, sentita la fase di ribasso, e questo è molto indicativo, e poi ce n'è un'altra cosa molto importante, la fase di bassista è più piccola di quella di rialzista, perché noi siamo saliti da qui e siamo scesi con un pennant, si dice così, con una parte, diciamo, di figura, che in analisi tecnica, ragazzi, questa figura qui, questa figura che vedete, è una figura che viene identificata come figura di continuazione del trend. Cioè, è una fase di riposo, una fase di riflessione del mercato per riprendere tutti gli eccessi, per evitare, insomma, gli eccessi del mercato, riassorbirli, e poi ripartire con un nuovo trend che dovrebbe essere più o meno questo, l'andamento. Allora, questa è l'analisi tecnica classica, ragazzi, non è il futuro, non è quello che sto dicendo che accadrà, certamente. Ok? Ricordate che qui non si danno segnali di trading, leggete sempre i disclaimer e quant'altro, e soprattutto ricordatevi che io non do consigli finanziari, ma al di là di questo, l'analisi tecnica classica, se voi la studiate, andate a leggere quello che fa, indica che questa è la struttura più comune, più probabile di atteggiamento di un mercato. Ancora di più, se ipotizziamo che stiamo guardando un mercato binatura settimanale, in questo caso, quindi un anno, ragazzi, quindi, insomma, ovviamente i movimenti ci sono, però le imperfezioni dell'analisi tecnica sono molto di meno, perché nel momento in cui andiamo a guardare un grafico a 15 minuti faremmo un gran casino, ma nel momento in cui andiamo a guardare un grafico settimanale, come, insomma, ragazzi, sanno tutti ormai quelli che vi seguono da un po', il grafico settimanale è più pulito. Quindi, in sostanza, l'ultima cosa che ci sta dicendo l'anno 2019 è che l'atteggiamento di trend di lungo periodo che si è innescato con questa inversione in realtà non è del tutto modificato da questa fase ribassista, bensì questa fase ribassista è, in questo momento, una riflessione di un trend rialzista e dovrebbe riprendere le forze per fare questo. Va bene, ragazzi? Allora, questo è il, diciamo, quello che ci sta comunicando l'anno 2019, un po' come il rito vudo, però ci sta dicendo esattamente questo qui. A questo punto, se questa è la nostra fase di riflessione, attendiamo che il mercato ce ne faccia un'altra. Non so quando, non sappiamo mai quando, ragazzi, però potrebbe esattamente fare questa cosa qui, cioè riflettere. Ipotizziamo magari che lo fa da adesso in poi, prende e riflette tra questi livelli e questo livello, magari lo fa per un po', dopodiché tenterà magari di andare in breakout di una di queste barre. Quindi se fa il breakout verso il basso, ragazzi, allora cambiano un po' di cose perché continua la sua fase di riflessione ribassista, poi magari eccede, se eccede in maniera eccessiva, dovremmo rivedere queste considerazioni, altrimenti magari noi sappiamo da questa informazione una cosa molto importante, che se anche stiamo qua dentro e dopo un po' il mercato tenta di rompere questo livello, attenzione, perché potremmo riavere questo tipo di atteggiamento. E quindi sappiamo già quello che dobbiamo fare da qui al 2020, ragazzi. Nel 2020 dobbiamo attendere che il mercato ci dia un breakout su un ciclo settimanale, su un, scusate, un time frame settimanale, di questo tipo, ragazzi, ok? Di questo tipo qui. In questo momento dov'è questo livello di prezzo? 8.000 dollari. Stampatevelo in testa. Non sappiamo, ragazzi, se continuerà ad essere questo, perché se il mercato se ne va giù e rompe i 6.500, allora è tutto da rifare. Però se rimane all'interno di questo spazio, di questo rettangolo, a questo punto, ragazzi, abbiamo un primo livello di breakout già stampato, come era questo, ragazzi. Questo qui, vedete? Poi che da qui faccia lo stesso tipo di movimento, non lo sappiamo, non lo sa nessuno questo, però lì, ragazzi, andiamo a tradare, perché ci assumiamo un rischio controllato, un rischio che è corretto, perché l'analisi tecnica ci sta dando un'informazione molto rilevante e a quel punto possiamo tentare di fare esattamente questa cosa qui e magari vedere il mercato che vada sopra a questi livelli di massimo, che poi è quello che in sostanza ci interessa, è quello che vogliamo vedere. Bene, questo è quello che il mercato ci ha insegnato nel 2019, il mercato è anche salito tanto, quindi Bitcoin ha fatto anche un'estensione di prezzo notevole, ragazzi, perché dai minimi chiudiamo l'anno con un più 130% circa, vedete, sono 4.000 dollari di differenza rispetto ai minimi del 2018, quindi il mercato in sostanza da un minimo di dicembre del 2018 al massimo attuale fa un 130, quindi più o meno un 100% rispetto all'anno precedente e significativo sì, però è anche significativo che eravamo arrivati al più 350% e poi siamo scesi giù. Ok, queste sono cose che può fare solo un mercato come quella delle criptovalute, splendido sicuramente, ma anche estremamente rischioso, viva le montagne russe. Bene ragazzi, allora vi ho detto quello che ci ha insegnato l'anno 2019, ma domani, nel video di domani, per il nuovo anno, per l'inaugurare diciamo il 2020, vi dirò anche l'altra faccia della vetaglia, perché la vetaglia ha sempre due facce e gennaio 2020, attenzione, potrebbe essere un po' problematico per una serie di profili, per una serie di indicazioni e di informazioni statistiche che il mercato ci ha dato negli anni a venire. Le vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti, buon fine 2019, buon veglione, divertitevi come sempre e insomma, alcolo a fiumi, è inutile ragazzi, è così. Ciao!